Nei prossimi giorni si procederà finalmente a liquidare quanto dovuto ai dipendenti comunali. Con una breve nota stampa diffusa da Palazzo Cavallo si conclude la questione del salario accessorio per i lavoratori del Comune di Arezzo. Nella tarda serata di martedì è arrivato il tanto atteso parere della Corte dei Conti sui quesiti posti dall'amministrazione riguardo la questione. Parere che, si legge nel comunicato dell'ente, è completamente in linea con le tesi assunte dal Comune di Arezzo e che corona in modo positivo tanti mesi di lavoro. La notizia è stata immediatamente condivisa con le rappresentanze sindacali che dallo scorso novembre avevano proclamato lo stato di agitazione. La risoluzione dell'avvertenza è stata confermata dall'assessore al personale Barbara Maggi che ha ribadito la volontà di procedere all'erogazione di quanto dovuto ai dipendenti nel rispetto dei tempi tecnici. La parte riguardante il 2015 sarà corrisposta subito, mentre quella dell'anno successivo sarà stanziata non appena i dirigenti avranno terminato le valutazioni tecniche in corso.